Online Stai studiando Stai studiando Questo devo fare allora Ciao capitano Quali emozioni hai provato all'arrivo in aeroporto da Catania Ed essere accolti da tanta gente compreso io Dopo una semplice vittoria Qual è il tuo obiettivo goal in questo campionato? Grazie a forza ragazzi Ma rispondi in altamurese O usa Google traduttore Prende il ciccio capito Capitano, domenica appena segniamo Perché non festeggiate con delle dentiere tipo Dracula? Sarebbe un bel gesto per ridere su quello che è successo in coppia Che ne pensi? SPS quest'anno è un mino 24 Ciccio inizio col dirti che sei un bomber Ma poi come va il rapporto tra te e De Luca? Ti sta piacendo il rapporto con i tifosi? Ciao! E' un maestro del computer Ma come stai scrivendole? Ma chi è che sta dando l'Alfonso? Stiamo in chat con i tifosi Finalizzassimo la tua carriera da quando giochi come finalizzatore Prende il punto centrale Nel tridente Hai migliorato la qualità La quantità di gol messi a segno Ben 29 Rispetto ai 20 totalizzati Quando giocavi con l'attacca a due Per questo ti domando Preferisci giocare in coppia O essere alla punta in un tridente? Chi ha detto al mister? 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 Ciao ragazzi E' stato bello rispondere alle vostre domande Ci vediamo domenica tutti allo stadio Ciao!